Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione vogliamo discutere la seguente equazione. 1-m per x più 6 uguale 0, con la condizione x compresa tra 2 e 4. Utilizzeremo il metodo diretto e per questo motivo dobbiamo svolgere il seguente sistema. Questo è un sistema misto composto da un'equazione e due disequazioni. L'equazione è ovviamente 1-m per x più 6 uguale 0. E le due disequazioni sono date dalla condizione che ricordo è x compresa tra 2 e 4. Quindi x maggiore di 2 e x minore di 4. La x possiamo ricavarla direttamente dalla prima equazione e sarà uguale a meno 6 fratto 1-m che è anche uguale a 6 fratto m-1, sempre che sia m diversa da 1. Quindi se m è diversa da 1, x può essere scritta in questo modo, come 6 fratto m-1. Ma se x deve essere maggiore di 2 e minore di 4, allora anche 6 fratto m-1 deve essere maggiore di 2 e minore di 4. Possiamo quindi riscrivere il nostro sistema nel seguente modo. 6 fratto m-1 maggiore di 2 e 6 fratto m-1 minore di 4. Dobbiamo adesso risolvere queste due disequazioni. Cominciamo dalla prima. 6 fratto m-1 maggiore di 2. Portiamo il 2 al primo membro e consideriamo anche il minimo 1 comune multiplo per ottenere m-1 al numeratore 6-2m più 2. Tutto questo ovviamente maggiore di 0. Ora sommiamo i termini simili, i simili, scusate, 6 più 2 è 8. Quindi 8 meno 2m fratto m-1 maggiore di 0. Mettendo il 2 in evidenza al numeratore del primo membro e semplificando, otteniamo infine 4 meno m fratto m-1 maggiore di 0. Per risolvere adesso questa semplice disequazione dobbiamo considerare il numeratore ed il denominatore. Il numeratore è 4 meno m a posto maggiore di 0. Portiamo il 4 al secondo membro per ottenere meno m maggiore di meno 4 e quindi m minore di 4. Per quanto riguarda il denominatore è più semplice, m-1 maggiore di 0, quindi m maggiore di 1. Ora mettiamo i valori che abbiamo ottenuti su un grafico. 1 e 4 e scriviamo in qualche modo quelle che devono essere le soluzioni finali. A destra dell'1 c'è naturalmente il segno più, a sinistra il segno meno. Per quanto riguarda il 4 invece a sinistra c'è il segno più e a destra il segno meno. Infatti m deve essere minore di 4 per la condizione del numeratore. Per quanto riguarda invece il denominatore, m deve essere maggiore di 1. Meno per più adesso ci dà meno, più per più ovviamente più, più per meno, meno. La nostra disequazione aveva inizialmente il segno maggiore, quindi il verso maggiore, per cui dobbiamo prendere il segno più. Il risultato è m compresa tra 1 e 4. Andiamo a scriverla. M compresa tra 1 e 4. Adesso dobbiamo risolvere la seconda disequazione. Questa disequazione è la seguente. 6 fratto m meno 1 minore di 4. Quindi 6 fratto m meno 1 minore di 4. Andrò velocemente perché i passaggi sono veramente molto simili a quelli già visti in precedenza, per cui se consideriamo il minimo comune multiplo, otterremo al denominatore m meno 1 e al numeratore 6 meno 4m più 4, tutto questo minore di 0. Sommando i termini simili si ha 6 più 4, 10, meno 4m, diviso m meno 1. Possiamo, tutto questo è naturalmente minore di 0. Possiamo, come già fatto in precedenza, dividere per 2 il numeratore e quindi ottenere 5 meno 2m fratto m meno 1, naturalmente minore di 0. Risolviamo adesso questa disequazione e iniziamo a considerare il numeratore. Nonostante la disequazione abbia il verso minore, noi poniamo comunque il numeratore maggiore di 0, quindi 5 meno 2m maggiore di 0, quindi meno 2m maggiore di meno 5, quindi m minore di 5 mezzi. Per quanto riguarda invece il denominatore è esattamente come prima, quindi m meno 1 maggiore di 0, quindi m maggiore di 1. 5 mezzi vale naturalmente 2,5, quindi m maggiore di 1. Sull'un ipotetico asse potremmo mettere l'1, 5 mezzi, e considerare le condizioni ottenute, quindi m maggiore di 1, quindi negativo a sinistra di 1. m minore di 5 mezzi per quanto riguarda il numeratore, quindi negativo a destra. Usiamo il metodo della composizione dei segni, quindi meno per più ci dà meno, più per più ci dà più, più per meno, naturalmente meno. Se il verso della disequazione era il minore, di conseguenza dobbiamo prendere il segno meno. Le nostre soluzioni quindi saranno m minore di 1 unito ad m maggiore di 5 mezzi. Visto che ciò che dovevamo considerare nel nostro sistema iniziale, dobbiamo scrivere tutte le soluzioni su un unico grafico e prendere le soluzioni comuni. Andiamo a riguardare quali sono le soluzioni della prima e della seconda disequazione. Per quanto riguarda la prima, avevamo detto che m doveva essere compresa tra 1 e 4, quindi andiamo a riscriverla. m compresa tra 1 e 4. Per quanto riguarda invece la seconda disequazione, m minore di 1 unito ad m maggiore di 5 mezzi. Quindi m minore di 1 unito ad m maggiore di 5 mezzi. Bene, scriviamo tutto su un unico grafico e vediamo che cosa succede. 1, 5 mezzi, 4. La prima soluzione è m compresa tra 1 e 4, quindi questa qui. La seconda soluzione è m minore di 1 ed m maggiore di 5 mezzi. Ovviamente, molto semplicemente, si vede che le soluzioni comuni sono queste indicate in rosto. Quindi m compresa tra 5 mezzi e 4. Bene, in questo modo abbiamo terminato la nostra discussione, perché abbiamo determinato che quando m è compresa tra 5 mezzi e 4, la nostra equazione iniziale 1-m per x più 6 uguale a 0 ha delle soluzioni x comprese tra 2 e 4. Bene, per quanto riguarda questa lezione non c'è altro. Vi invito, nel caso in cui aveste dubbi, come sempre, ad utilizzare il nostro forum e vi ricordo che, nel caso in cui voleste rimanere costantemente aggiornati sulle nostre video-lezioni, potreste sempre iscrivervi al nostro canale YouTube e mettere il mi piace sulla pagina di Facebook. Nel frattempo vi ringrazio per aver seguito questa lezione.